Il tuo 2x1000 alla Lega Nord. Cos'è il 2x1000? È la tua scelta di destinare in modo volontario una quota della tua IRPEF alla Lega Nord. Una scelta gratuita. Non ti costa nulla e non sostituisce le tue ulteriori scelte di destinare il 5x1000 e l'8x1000. Nel caso in cui non venga espressa alcuna preferenza, la quota resta comunque all'erario. Chi può destinare il 2x1000? Tutte le persone che nel corso dell'anno 2013 hanno percepito un reddito, quindi non solo chi ha presentato il modello 730 del 2014 o il modello unico persone fisiche 2014, ma anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi come i pensionati e i lavoratori con un solo reddito e una sola casa di proprietà. Come destinare il 2x1000 alla Lega Nord? Scarica l'apposita scheda dal sito www.agenziaentrate.gov o www.leganord.org slash 2x1000 oppure ritirala presso il tuo CAF o dal commercialista, inserisci i tuoi dati e firma nel riquadro Lega Nord. Privacy. Dovrai chiudere la scheda firmata in una normale busta di corrispondenza sulla quale dovrai apporre la scritta scelta per la destinazione volontaria del 2x1000 dell'IRPEF, aggiungere il tuo codice fiscale, nome e cognome. La riservatezza della tua scelta è sempre tutelata. Dove consegnare la scheda? Potrai consegnare la scheda inserita nella busta al tuo sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ai soggetti intermediari, CAF, oppure presso un qualsiasi ufficio postale. I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiunta dovranno compilare le rispettive schede del 2x1000 e consegnarle in due buste distinte. A tutti i soggetti verrà rilasciata una ricevuta di consegna. Scadenza, la tua scelta per il 2x1000 alla Lega Nord va fatta entro il 30 settembre 2014. Sostieni la Lega Nord, una firma per il tuo 2x1000.